Noi abbiamo provato Noi abbiamo provato Noi abbiamo provato Noi abbiamo provato Buongiorno Che figata Dovresti fare solo questo Attenzione! Oh! Eh! Questo non me l'avevi detto però eh! Eh! Questo non me l'avevi detto! Si impenna anche! Ah! Che comodità! Ma solo che hai visto la gente non è abituata! Eh! Te guarda come vedi! Guarda sto stronzo! Ma lo cazzio! Non riesci a capire! E poi non parlano più! Oh! 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 Ahahah!!!